musica mi fa a voi tanto piacere la presenza di Don Felice perché per voi è stato un bacio per me è stato un professore di latino e di greco da prima e seconda superiore un po' andiamo indietro del tempo quasi 50 anni fa e dentro della sua giovinienza lo faceva sempre con tanta passione quindi vedete che cos'è un allunno di un tanto professore grazie e una felice cosa grazie a tutti 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 grazie a tutti